In quel libro facciamo un decalogo delle cose che bisognerebbe fare per arrivare al superamento e quindi all'abolizione del carcere. La sostanza io credo sia quella di prendere sul serio il fatto che le persone che sono punite dentro il nostro sistema penale e penitenziario sono persone che hanno l'integrità dei loro diritti fondamentali, della loro dignità di essere persone. L'integrità della loro dignità di essere persone significa che seppure e fin quando saranno in carcere devono poter esercitare tutti i loro diritti fondamentali e su questo bisogna fare dei passi che ci avvicinino al superamento del carcere. Ormai il sistema penale si giustifica tradizionalmente e poi ora ancora di più perché ci si è messa di mezzo la Corte Costituzionale che spiega queste cose eccetera eccetera eccetera. Si giustifica per il fatto appunto di essere un sistema che non vuole toccare, non vuole mettere in discussione i diritti fondamentali della persona che devono essere rispettati. Quindi la privazione della libertà deve essere, dice la Corte Costituzionale, solo privazione della libertà di movimento. Non è facile che la privazione della libertà sia solo privazione della libertà di movimento. Intanto perché appunto solo l'idea della libertà si porta con sé tante cose che non sono scritte da nessuna parte e che pure vengono costantemente private. E però questa tesi sostenuta in qualche modo da chi giustifica l'esistenza del carcere e della prigione, io penso, noi pensiamo anche in quel libro, che può essere rovesciata contro l'istituzione penitenziaria. Allora sì, così è, va bene. Allora discutiamo di quali sono i diritti fondamentali delle persone pure in stato di privazione della libertà, pure in stato di esecuzione penale. E allora discutiamo di tutto quello che spetta alle persone che sono in carcere anche se sono state condannate per qualsivoglia reato. Ne abbiamo avuto un esempio recente con la sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto il diritto all'affettività e alla sessualità in carcere. Un diritto che la Corte ha dovuto riconoscere non può essere compresso perché non c'entra nulla con la ragione per cui una persona è stata condannata. Questa cosa, diciamo, che oggi fatichiamo tantissimo, diciamo, sia a vedere attuata, cioè semplicemente l'amministrazione penitenziaria e il governo sperano di poter arrivare alla fine della legislatura fra tre anni, diciamo così, pur di non occuparsi di come applicare questa cosa, perché l'istituzione penitenziaria è un'istituzione sessuofoba che non riesce a fare i conti con la sessualità, viceversa però, diciamo, se questa cosa si riesce a rovesciare, e cioè non solo, diciamo, sia a ottenere una sentenza della Corte Costituzionale come quella che è stata ottenuta nel gennaio scorso, ma a farla concretamente applicare questa cosa è una cosa che, diciamo così, come sosteniamo in quel libro e in mille altre occasioni, è una cosa che erode concretamente le mura della prigione. Questo è il punto, cioè l'abolizionismo è, diciamo sì, in qualche modo un punto d'osservazione e una prospettiva rispetto alla possibilità di fare giustizia senza inflizione di sofferenza, senza inflizione di sofferenza penale, senza costrizione dentro un quattro mura, diciamo, ecco, è questa cosa qui, ma questa cosa si fa, diciamo, quotidianamente lavorando all'erosione delle mura del carcere, perché quotidianamente noi abbiamo a che fare con la sofferenza di decine di migliaia di persone che sono lì dentro e che sono private del diritto alla sessualità, alla comunicazione, alla possibilità di esprimere le loro opinioni. Questa è un'altra delle cose che il carcere cancella totalmente. Le persone detenute per poter esprimere le loro opinioni devono passare al vaglio dell'autorità che decide se quell'intervista può essere data o non può essere data. Una cosa che non è scritta da nessuna parte e che non si giustifica in nessun modo, diciamo. Ecco, allora, in questo senso, diciamo, è possibile fare passi e movimenti verso il superamento dell'istituzione, dell'istituzione penitenziaria. D'altro canto, se pensiamo alla nostra esperienza più importante, diciamo, di abolizione istituzionale, che è quella dei manicomi, Quell'esperienza... Ti ho rubato la battuta? Quell'esperienza... Vabbè, dai, dai, dai. La dirai meglio tu dopo. Quell'esperienza... Quell'esperienza è un'esperienza che arriva alla sanzione formale dopo una pratica fatta, diciamo, sì, da operatori, psichiatri, infermieri, gente che lavorava sul territorio, che l'istituzione l'ha erosa giorno dopo giorno. La decisione dell'abolizione è stato il fatto formale che è arrivato, neanche alla fine, a un certo punto di questo percorso, perché poi il superamento del manicomio è una cosa che continua e deve continuare ancora oggi, perché il manicomio altrimenti rinasce ogni volta sotto forme diverse. Mi fermo qui. Così... Grazie.